E' triste vedere la Chiesa come un Parlamento, lo ha detto ieri Papa Francesco nel corso della Catechesi in udienza generale. La Quaresima si è occasione per riscoprire il valore dell'umano, sono le parole di Monsignor Satriano, arcivescovo di Bari-Betonto, per il cammino quaresimale che condurrà alla Pasqua. Marcia della pace Perugia-Assisi, stanotte si terrà un'edizione straordinaria in occasione del primo anniversario dell'inizio dell'invasione russa in Ucraina. La storia del venerabile brindisino Matteo Farina, un giovane raccontato ai giovani e l'iniziativa delle suore della cittadella Sanguis Cristi di Trani. E' stato siglato in Puglia il primo patto etico della filiera ortofrutticola tra regione, imprese e grande distribuzione. Bentornati alla seconda edizione del telegiornale di Teledeon. No alle divisioni ideologiche, il Vangelo non è un partito politico o una ideologia. Lo ha detto ieri il Papa nella Catechesi in udienza e ha aggiunto è triste vedere la Chiesa come un Parlamento. Ascoltiamo. «Nella Chiesa tutto va conformato alle esigenze dell'annuncio del Vangelo, non alle opinioni dei conservatori o dei progressisti, ma al fatto che Gesù raggiunga la vita della gente. Perciò ogni scelta, ogni usso, ogni struttura, ogni tradizione sono da valutare nella misura in cui favoriscono l'annuncio di Cristo. E quando si trovano divisioni nella Chiesa, per esempio, di visioni ideologiche, questo io sono conservatore perché io sono progressista, ma dove c'è lo Spirito Santo? State attenti che l'Evangelio non è una idea, l'Evangelio non è una ideologia, l'Evangelio è un annunzio che tocca il cuore e ti fa cambiare il cuore. Ma se tu ti rifugi in una idea, in un'ideologia, sia di destra, sia di sinistra, sia di centro, tu stai facendo. Il Vangelo è un partito politico, un'ideologia, un club di gente. Il Vangelo sempre ti dà questa libertà dello Spirito che agisce in te e ti porta avanti. E' quanto ci vuole oggi prendere in mano la libertà del Vangelo e lasciarci portare avanti dallo Spirito. così lo Spirito fa luce sul cammino della Chiesa, sempre. Egli non è infatti solo la luce dei cuori, è la luce che orienta la Chiesa, fa chiarezza, aiuta a distinguere, aiuta a discernere. Per questo occorre invocarlo spesso. Facciamolo anche oggi, all'inizio della Quaresima. Perché come Chiesa possiamo avere tempi e spazi ben definiti, comunità, istituti e movimenti ben organizzati, ma senza lo Spirito tutto resta senza anima. La Chiesa, se non prega lo Spirito e non lo invoca, si chiude in se stessa, in dibattiti sterili ed estenuanti, in polarizzazioni logoranti, mentre la fiamma della missione si spegne. E' molto triste vedere la Chiesa come se fosse un Parlamento soltanto. La Chiesa è un'altra cosa. La Quaresima si ha occasione per riscoprire il valore dell'umano. Sono le parole dell'Arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Satriano, per il cammino quaresimale che condurrà alla Pasqua. Sentiamo. E' il tempo che riporta al valore fondativo dell'essere cristiano, un tempo che non può essere sprecato, ma che deve condurre anche a una profonda riflessione sulla realtà quotidiana. E' la Quaresima per l'Arcivescovo di Bari Bitonto, Monsignor Satriano, che seguendo le parole di Papa Francesco, invita a rinvigorire il rapporto con Cristo. La Quaresima conserva in sé un valore, un'importanza, perché ci riporta al mistero fondativo della vita cristiana, che è la morte e la resurrezione di Gesù. Il Papa nel suo messaggio insiste su questo. Ci invita ad essere artigiani della sinodalità, ma proprio in una capacità di ritrovare intanto un rapporto vivificante con Cristo, che sembra essere l'assente all'interno della vita cristiana oggi. E l'ascoltare il Signore, il vivere questa esperienza che trasfigura la vita, diventa centrale. Prima ancora poi della capacità di mettersi insieme e di lavorare su una vita concreta su un umano, che però chiede un'iniezione di trascendenza, un'iniezione di vita vera. La sfida, allora, consiste nel mettere da parte l'individualismo che caratterizza il nostro tempo e donarsi davvero agli altri. La Quaresima, aiutando il credente a riaffondare le radici nel mistero centrale della sua vita, riporta le nostre comunità ad una sfida centrale, che è quella di riscoprire attraverso gli occhi di Cristo, attraverso il suo messaggio, attraverso quanto Gesù ha operato il valore dell'umano. Un valore che abbiamo parcellizzato, che abbiamo rapinato, che abbiamo sottratto la sua integrità attraverso un individualismo esasperante che caratterizza il tempo che stiamo vivendo. Stanotte ricorre il primo anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Per questa ragione esiterà proprio questa notte un'edizione straordinaria della tradizionale Marcia della Pace Perugia Assisi. I particolari nella scheda di Marilena Pastore. Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, nel primo anniversario dell'inizio del conflitto in Ucraina, ci sarà un'edizione tutta speciale della tradizionale Marcia della Pace Perugia Assisi per esprimere solidarietà a tutte le vittime innocenti dei conflitti ed esortare i responsabili politici ad elaborare una proposta per un immediato cessate il fuoco. In occasione del tragico anniversario dell'inizio della guerra in Ucraina, mentre si attende un serio impegno internazionale per fermare la serie di sofferenze, disperazioni e distruzioni, i partecipanti alla marcia contro tutte le guerre che continuano a devastare la famiglia umana e il pianeta porteranno ciascuno il volto di una delle vittime, una fiaccole alla domanda incessante di pace, in solidarietà con tutte le vittime innocenti della guerra. Nella notte della guerra, scrivono i promotori dell'iniziativa, non possiamo dormire soni tranquilli. Rinnoviamo per questo il grido di Don Torino Bello e diciamo in piedi costruttori di pace. Facendosi portavoce dell'appello di Papa Francesco, il Comitato Promotore per la Marcia Perugia Assisi ha elaborato anche una dettagliata proposta politica per ottenere l'immediato cessate il fuoco in Ucraina. Abbiamo bisogno di interrogare la politica, scrivono i promotori, e aprire un confronto aperto, pubblico, che stimoli l'impegno fattivo di tutti coloro che hanno la responsabilità e la facoltà di impedire l'irreparabile. La storia del venerabile brindisino Matteo Farina, un giovane raccontato ai giovani, è l'iniziativa delle suore della cittadella Sanguis Cristi in un pub di Trani. A tenere le fila di questo incontro, Don Gianni Nacci, responsabile della pastorale giovanile di Brindisi Ostuni, e Francesca Grappolo, catechista del venerabile Farina. È il secondo anno che vogliamo vivere questa esperienza sul territorio di Trani, in collaborazione con la pastorale giovanile cittadina, per dare la possibilità ai giovani del territorio, delle parrocchie, di ritrovarsi insieme e riflettere su alcuni giovani, sulla figura di alcuni giovani che hanno vissuto la loro vita fino in fondo. Matteo era un giovane brindisino che nella sua vita ha cercato di saper coniugare sempre, in ogni situazione, la fede e le esigenze che la fede porta con sé con la ricerca di un senso profondo della vita. E così Matteo dalla tenere infanzia si innamora, possiamo dire, della persona di Gesù e cerca di vivere le sue fasi evolutive alla luce dell'ascolto della parola, della vita della comunità, della comunità cristiana e della preghiera personale. Così Matteo diventa anche un forte testimone dell'esperienza della fede, soprattutto con i suoi coetani. Un ricordo? Ce ne sono tanti, sicuramente legato all'ultimo periodo della sua vita, quando a causa di un tumore cerebrale era rientrato da poco dall'ospedale di Hannover con una semiparesia al braccio e gamba sinistra. Vederlo in quelle condizioni davvero non era per niente piacevole. facevo davvero fatica anche ad avvicinarmi quando l'ho visto. Matteo si è accorto forse di questa mia paura e si è avvicinato invece a mio figlio che aveva poco più di un anno e ha cominciato a giocare e a scherzare con lui battendogli anche il 5 e comunque con il suo immancabile sorriso e quindi anche in quello mi ha dimostrato la sua grandezza, la sua grande forza e il suo grande coraggio. E ora come di consueto passiamo alla pagina dedicata al coronavirus, diamo uno sguardo agli ultimi dati aggiornati diffusi dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 4.611 test giornalieri per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 211 nuovi casi positivi. Nessun decesso è stato accertato. I casi attualmente positivi sono 7.185, mentre 106 sono le persone ricoverate in area non critica, 5 quelle in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono 9.627 in totale le persone decedute in Puglia. Siglato in Puglia il primo patto etico di filiera ortofrutticola tra regione, imprese e grande distribuzione. Questo a garanzia della stabilità, sostenibilità e valorizzazione di frutta e ortaggi made in Puglia. Sottoscritto il primo patto etico della filiera ortofrutticola garanzia della stabilità, sostenibilità e valorizzazione di frutta e ortaggi made in Puglia. È il risultato di un importante lavoro di concertazione tra regione e Puglia, rappresentanze delle categorie agricole pugliesi e della grande distribuzione organizzata, con l'obiettivo di tutelare e garantire stabilità e solidità di uno dei più importanti settori produttivi agroalimentari di Puglia, con l'impegno di tutti a costruire una comunità non fondata su vincoli giuridici, ma su responsabilità di natura etica, da produttori e grande distribuzione. Al protocollo d'intesa seguirà ora una delibera di giunta che lo recepirà in toto. Molto spesso i tempi dell'adeguamento del prodotto e dell'offerta da parte dei produttori sono complessi e ovviamente non sono veloci come quelli del mercato e quindi serve una gestione collaborativa che remuneri almeno i costi di produzione fino a quando ovviamente il rapporto tra domanda e offerta non si equilibria. Affrontiamo puntualmente crisi da parte dei produttori che si ritrovano a vendere sotto costo la loro produzione, quindi con conseguenza revolte drammatiche e oggi devo ringraziare tutta la grande distribuzione pugliese e nazionale che sottoscriverà questo impegno a rimanere almeno dentro l'argine dei costi di produzione. Ognuno ci mette qualcosa rispettando in termini etici il prezzo, quindi i costi di produzione, l'aumento dei costi, mettere prodotti di qualità sulle tavole dei nostri consumatori e quindi la gente che sappia cosa sta comprando. La Regione metterà a mano una iniziativa forte condivisa con loro che va verso nuove cultivar, nuovi sistemi di impianto, agricoltura di precisione e quindi c'è un principio di corresponsabilizzazione molto importante, molto serio, che come avete visto a volte è sottovalutato come è successo per il latte ma adesso ci ha dato grandi risultati e siamo diventati la Regione punto di riferimento perché ha colto quella sfida sin dall'inizio. E continuiamo a parlare di agricoltura. Secondo un'analisi della Col di Retti in Puglia sarebbero disponibili almeno 10.000 nuovi posti di lavoro nei campi per i giovani e intanto sono già oltre 13.000 le imprese agricole pugliesi gestite da Under 35. Vediamo. In Puglia nelle campagne duramente colpite lo scorso anno dalla notevole perdita dei raccolti agricoli si aprono opportunità lavorative per almeno 10.000 giovani. A dirlo è la Col di Retti Puglia sulla base di un'analisi diffusa nell'ambito dell'iniziativa Lavoro per i Giovani in Agricoltura CE, all'apertura del Salone della Creatività Made in Italy, Generazioni in Campo, un'occasione per scoprire le ultime innovazioni del 2023 con l'assegnazione degli Oscar Green ai giovani agricoltori e alle loro idee. In tutto il territorio regionale sono oltre 13.000 le aziende agricole gestite dagli Under 35, delle quali il 26% dei giovani capo azienda ricorre alla vendita diretta, mentre il 14% a quella fuori azienda, contro il 17% e il 10% per gli imprenditori con più di 40 anni di età. Ma quali sono le figure specializzate più richieste nei campi? Sono i trattoristi, i sericoltori, i potatori e i tecnici dell'agricoltura 4.0 per guidare droni, leggere i dati meteorologici e utilizzare gli strumenti informatici, ma anche raccoglitori per le verdure, la frutta e la vendemmia. Col di Retti spiega che il 12% delle imprese giovani nei campi svolge attività connesse che sono dunque in prima linea nel modello di agricoltura multifunzionale, con importanti ricadute sull'ambiente e sulla collettività, come nel caso della produzione di energie rinnovabili o l'agricoltura sociale. Per agevolare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, l'Associazione Agricola Pugliese ha varato il portale Job in Country, rivolto alle aziende del settore che assumono. Si tratta di una piattaforma informatica di intermediazione della manodopera che offre a imprese e lavoratori un luogo di incontro virtuale prima e sul campo poi, attraverso una consulenza con i front office del sistema dei servizi territoriali. Secondo la Col di Retti, in agricoltura il lavoro c'è, sia per chi vuole intraprendere con idee innovative che per chi vuole trovare un'occupazione lontano dalla città. Riflettere sulla condizione giovanile oggi e proporre iniziative e soluzioni per garantire il loro inserimento nella società. Questo è l'obiettivo dell'iniziativa di Puglia favorevole che si è tenuta nei giorni scorsi a Bari. Giovani oggi, comportamenti, abitudini social e stili di vita. Questo è il tema dell'incontro promosso da Puglia favorevole. Un incontro che ha visto la partecipazione di diversi relatori, ciascuno dei quali ha dato un importante contributo per sviluppare un tema alquanto delicato e attuale. Oggi Puglia favorevole ha organizzato questo convegno per parlare dei nostri giovani e dei loro tanti problemi. Il social, il bullismo e il cyberbullismo, l'uso delle droghe e il consumo dell'alcol stanno mettendo a rischio la salute e il futuro dei nostri giovani. Bisogna intervenire subito e arginare subito questo problema. Noi chiediamo allo Stato più controlli per le strade, più politiche sociali ed economiche per aiutare i nostri ragazzi e le loro famiglie in difficoltà. Noi di Puglia favorevole oggi tutti insieme vogliamo far sentire la nostra voce contro questo grande problema che sta affliggendo la nostra società. E adesso come ogni giovedì l'appuntamento con le anticipazioni del settimanale Luce e Vita a cura della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Scopriamo insieme gli argomenti trattati in questa settimana. Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Diocesi Informa, la rubrica a cura dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Il notiziario propone in apertura alcuni appuntamenti in programma. L'ufficio diocesano di pastorale familiare organizza domenica 26 febbraio la festa diocesana dei fidanzati che si terrà presso la parrocchia Madonna della Pace. Dopo l'intervento del professor Alfredo Altomonte, salesiano cooperatore e professore di psicologia dell'educazione presso l'Università Auxilium di Roma, si terrà la Santa Messa presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Domenico Cornacchia. L'Avis Molfetta, in collaborazione con l'Arciconfraternita della Morte e l'Associazione Femminile di Maria Santissima Dolorata, organizzano domenica 12 marzo presso la Chiesa del Purgatorio una mattinata all'insegna della donazione di sangue. Sarà possibile donare dalle ore 8 alle ore 12. Nei giorni 28 febbraio 1 e 2 marzo, presso la parrocchia Madonna della Pace, si svolgerà il convegno pastorale alla riscoperta dei volti della Chiesa, dalle ore 19.30 alle 21.30. Il convegno metterà in relazione i temi dei cantieri sinodali di Betania con l'Episcopato di Don Tonino Bello, diretta streaming sui canali diocesani. Sono online sul sito diocesano i sussidi quaresimali predisposti dall'Ufficio Liturgico Nazionale e dall'Ufficio Catechistico Regionale. Passiamo ora brevemente in rassegna le notizie e gli approfondimenti presenti sul settimanale diocesano luce vita, numero 9 di domenica 26 febbraio 2023. Il giornale in prima pagina ricorda nell'editoriale del direttore Luigi Sparapano il triste anniversario del 24 febbraio, giorno di inizio del conflitto che sta devastando l'Ucraina. La copertina e pagina 7 sono dedicate alla nuova esperienza comunicativa diocesana. È disponibile un nuovo sito www.lucevitaonline.it e un'app Luce Vita Online, scaricabile gratuitamente. Un modo per avere a portata di mano sul proprio cellulare l'informazione diocesana. Sul giornale tutte le informazioni per potersi connettere a questi nuovi mezzi di comunicazione. A pagina 2 sono riportati i profili biografici dei relatori del convegno pastorale di cui abbiamo parlato. Don Alessandro Delia, direttore del Centro Mediterraneo di Cultura Giovanni Paolo II di Lecce, la biblista Rosana Virgili e Marco Gabriele, formatore a Gesci e membro dell'Ufficio Nazionale per l'Ecumenismo e il Tialogo Interreligioso della CEI. Come in avvento, anche nel tempo liturgico della Quaresima, il giornale pubblica, nella rubrica Verso la Pasqua, gli scritti di Don Tonino Bello, relativi all'ultimo periodo quaresimale da lui vissuto, per lasciarci guidare dalle sue visioni profetiche. Questa settimana la riflessione avrà come tema Un Dio che sconcerta. Nella stessa pagina, primo appuntamento con Quaresima a chilometro zero, promosso dall'Ufficio di Pastorale Sociale. Questa volta Silvia Bonsi propone il silenzio come stile di vita di cui riappropriarsi. Il paginone è dedicato al messaggio di Papa Francesco per la Quaresima, un invito a tutti a un impegno personale, sospinto dalla grazia per superare mancanze e resistenze e seguire il Signore con slancio e volontà. A pagina 6, Don Michele, padre e amico nella fede. Il ricordo di Don Michele Cipriani, tornato tra le braccia del padre pochi giorni fa, delineato da chi ha avuto occasione di collaborare con lui e stargli accanto nell'ordinarietà del servizio parrocchiale. Un uomo capace di guidare e incoraggiare con fermezza e discrezione. A pagina 7, il testamento spirituale di Don Michele. In ultima pagina la spiritualità liturgica domenicale e alcuni brevi notizie. Auguriamo a tutti voi una buona lettura. E questa seconda edizione del telegiornale di Teledeon termina qui. Grazie per aver prestato la vostra attenzione e vi auguriamo una serena serata in compagnia dei nostri programmi.